Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo breve filmato. Questo non sarà un vero e proprio tutorial, ma un semplice filmato di consiglio. Non so quanti di voi utilizzino Firefox, ma quelli che lo utilizzano si saranno senza dubbio resi conto che dopo il rilascio della precedente, della scorsa beta di Catalina, ovviamente se state usando la beta di Catalina, Firefox non era più utilizzabile. Firefox crashava al momento stesso in cui veniva lanciato e non c'era assolutamente modo di utilizzarlo. Ora, come sapete io utilizzo Firefox molto più frequentemente di Safari di solito e la cosa mi ha dato non poco fastidio. Ho fatto una ricerca molto veloce sul web e mi sono subito reso conto che il problema era generale, non era il mio. Era proprio un problema della beta numero 5 di macOS Catalina. Infatti sia Apple che lo stesso Mozilla hanno dichiarato che ci stanno lavorando, ne erano corrente e che probabilmente sarà una cosa che sarà risolta solo con il rilascio della prossima beta. Perché vi sto dicendo questo proprio adesso? Perché oggi è stato rilasciato questo aggiornamento. Oggi è stata pubblicata la nuova beta, la numero 6, per sviluppatori. Quindi, se state utilizzando la beta e avete problemi con Firefox, io vi consiglio caldamente di aggiornare il prima possibile. Vi faccio vedere in breve qual era il problema. Allora, se io vado nel mio launchpad per lanciare Firefox, vedete che ci clicco e l'unica cosa che veniva fuori era questo messaggio di errore che diceva che appunto l'applicazione era clasciata, se si desiderava mandare il loro conto, eccetera, eccetera. Se io anche provo a cliccare su riavvia, vedete che la pagina viene fuori, ma nel momento in cui io clicco su qualunque cosa, crasha di nuovo e torna il messaggio di errore, eccetera, eccetera. E non importa quante volte provavate, non si andava più in là di lì. Questa è l'unica cosa che si otteneva. Era proprio bloccata completamente l'applicazione. Ora, andiamo a verificare se effettivamente questo aggiornamento risolve il problema. Allora, io clicco nelle mie preferenze di sistema, aggiornamento software, e dovrebbe venirmi fuori l'avviso che c'è la nuova beta disponibile e che posso scaricarla. Vediamo un po', un attimo di caricamento. Di solito ci mette pochi secondi. Ed ecco qua, infatti praticamente è disponibile la nuova beta. Io comincio subito a scaricarla, così vediamo subito insieme se questo problema è stato effettivamente risolto da Apple e Mozilla oppure no. Allora, una volta cliccato sull'aggiornamento, come vedete parte subito il download. In realtà è più veloce di quello che mi immaginavo, quindi non ci sono particolari problemi. Sto già installando il tutto, come vedete. Scusate per il filmato un pochino tremolante, ma è stato un video un po' improvvisato su due piedi questo, quindi non sono stato a mettere il treppiedi, eccetera, eccetera. Sto facendo in tutto un modo un po' più casereccio, mi perdonerete per questa volta. Comunque, la solita procedura di aggiornamento, dopodiché si torna al desktop principale. Con questa nuova beta si dovrebbe aver risolto il problema di Firefox e anche altri problemi che c'erano, ma vabbè, quello che mi interessa in questo momento è Firefox. Andiamo subito a verificare. Allora, vediamo un po'. Proviamo subito a lanciare Firefox e vediamo cosa succede. Speriamo bene. Allora, questa è sempre la schermata d'errore, però una volta che clicchi sul pulsante sembrerebbe tutto in ordine. Vediamo un po'. Non so, per esempio andiamo su YouTube. Adesso accedo al canale, scusate, ovviamente censuro i dettagli, ma sembrerebbe che tutto sia tornato normale, a meno che non crashi dopo il login, ma non credo. No, è perfetto, è perfetto. Scusate, adesso metto subito la dark mode, perché ormai mi sono talmente abituato che l'ho schermata bianca, mi sembra veramente un occhio. Comunque, vedete, funziona. Hanno risolto il problema. Tutto è tornato alla normalità. Direi che è un'ottima cosa per chi utilizza abitualmente Firefox. Ripeto, io non ho assolutamente niente contro Safari, anzi, in questo periodo ho usato praticamente solo quello senza nessun problema in particolare. L'unico motivo per cui mi piace di più Firefox, a parte l'abitudine, è forse una maggiore facilità di scaricare contenuti da YouTube, da Facebook, dai vari siti filmati, intendo, più che foto, con particolare facilità. Diciamo, ci sono un sacco di plugin che permettono di scaricare contenuti multimediali senza diventare troppo matti. Su Safari è un pochino più complicata la cosa, perlomeno non ho ancora trovato una procedura che mi soddisfi del tutto, per cui continuo a preferire Firefox. Come vedete, hanno risolto il problema, tutto è andato bene. Vi consiglio, se usate la beta di Catalina, di aggiornare il prima possibile, perché ovviamente sotto il cofano hanno risolto anche altri problemi, oltre a questo qui di Firefox, che era abbastanza evidente. Quindi anche a livello di sicurezza siamo sicuramente un grandilo più avanti della beta precedente. Comunque ormai ci siamo, mancano poche settimane alla schiadenza di settembre, dove verrà ufficialmente presentata Catalina. Quindi io vi ricordo che non appena verrà ufficialmente rilasciata Catalina, io come al solito farò il mio solito filmato tutorial di guida per l'installazione completa, pulita di Catalina sui vostri Mac. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo la prossima volta.